Buonasera, benvenuti anche per te del showtime e dell'office. Stasera inauguriamo questa splendida cornice cercando di vendermi una cassetta, una cassetta iniziamo il massimo, iniziamo il massimo, ok? Maestro? Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Non c'è anche un caso, ma va bene. Bene. Ora dedichiamo un pezzo al nostro preferito. Al nostro preferito. Il nostro preferito fra di voi. Che cos'è? Spunza. Grazie la minore. Oh, Giuseppe, cos'è sto fischio? Oh, c'è un microfono. E' quello del piano forte del calcio. Il piano forte del calcio. E' un po' questo. Togliamo la voce tanto, sennò fischiamo lì. Sennò fischiamo lì. Sennò fischiamo lì. Allora è quello. E' che i volumi sono lì. Oh, questo è lì. Ok. Vai. Questa è lì. Ok. Muzie suonare. Questa è la mia conoscenza. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.